Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. È purtroppo deceduto nelle carceri ucraine il blogger e attivista statunitense Gonzalo Lira. La cosa stupefacente è che nessun quotidiano per ora ne sta parlando. Si fatica a trovare la notizia che tuttavia è verificata. Gonzalo Lira è morto durante la propria detenzione nelle carceri del guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood. Non sono chiare le cause che hanno portato alla morte del blogger e attivista che viene presentato come filo putiniano e critico verso l'amministrazione americana e verso le politiche del guitto dei guitti Zelensky e quello che stupisce, dicevo, è il silenzio assordante che su questa vicenda è calato da parte dell'ordine discorsivo egemonico. Come sempre l'ordine simbolico, mediatico, dominante dà grande risalto a ciò che rafforzi la tenuta del suo stesso ordine e tende invece a minimizzare quando non a silenziare ciò che variamente possa contrastare con la tenuta del suo ordine. Ecco allora che di questa notizia, dicevo, vi è ben poca traccia. Per inciso, bisognerebbe davvero rivedere il giudizio sull'Ucraina del guitto Zelensky, presentata come ben godi della libertà e dei diritti contro la Russia del perfido zar omofobo e rossobruno Putin. Ricordate bene che Zelensky ha chiuso i partiti di opposizione, ha perseguitato la chiesa ortodossa, ha imposto il canale unico televisivo e adesso ci sembra intendere anche il trattamento riservato agli oppositori politici e intellettuali non sembra essere propriamente dei migliori.